Sulla discarica di Grottelline deciderà il governo. Ieri il faldone è stato mandato a Roma e mentre tutti accusano il presidente della regione di comportamento pilatesco, Emiliano si dice sorpreso che gli uffici dell'assessorato all'ambiente abbiano deciso per la remissione e non manca di aggiungere il suo disappunto. La controversa vicenda sulla costruzione della discarica di Grottelline si arricchisce quindi di un nuovo giallo perché già dai primi passi mossi dalla regione su questo sito pochi sono stati gli elementi chiari. Come si sia arrivati a decidere di costruire una discarica circa 200 metri dalla masseria dei Templari datata intorno all'anno 1000 a pochi passi da insediamenti neolitici e rupestri in un paesaggio di straordinaria bellezza è davvero inspiegabile. Ma oggi con l'invio dell'incartamento a Roma viene meno la parola data dal presidente della regione Emiliano che a metà dicembre quando i comuni di Poggiorsini e Spinazzola avevano tenuto consigli comunali monotematici e aperti a tutti gli attori interessati alla vicenda aveva assicurato che la discarica di Grottelline non si sarebbe realizzata. Emiliano lo aveva detto anche facendo leva sul fatto che l'ambito territoriale ottimale della provincia Barletta-Andreatrani aveva fatto tutto il necessario per evitare questa realizzazione bloccata ormai da dieci anni. L'exato BAT aveva anche individuato un sito alternativo perché la costruzione di una discarica per questo territorio resta comunque una necessità. L'Emiliano che voleva decidere dalla Puglia di argomenti nazionali come la buona scuola e il reddito di cittadinanza chiede al governo di decidere di una discarica in Puglia, fanno notare le opposizioni. Ma il presidente, sorpreso e piccato dalla decisione della struttura tecnica dell'assessorato all'ambiente, ha ora incaricato l'assessore a ramo, il tranese Domenico Santorsola, di convocare urgentemente un tavolo tecnico che porti ad una nuova allocazione della discarica. A Santorsola toccherà anche il paradossale e ingrato compito di andare a Roma per dire al Ministero che non assuma decisioni sull'incartamento inviato.